ciao ragazzi bentornati a un nuovo video di smooth concept che cosa vedremo oggi vi svelerò come cambiare le gomme senza andare dal gommista 15 euro in meno ragazzi cosa vi servirà semplice delle leve qui abbiamo una leva per lo smontaggio della mousse ma per i poveri c'è anche quella per le camere d'aria perché si sa la mousse non si buca ma costa tantissimo è uno smonta gomme fidatevi se avete la possibilità di comprarlo fatelo perché vi ridurrà di molto la fatica nello smontare lo pneumatico la prima cosa da fare per il cambio gomma sarà sgonfiare la camera d'aria noi siamo muniti dello smonta valvole renderà più semplice lo sgonfiaggio tiriamo via i dadi dalla valvola entrambi ok ragazzi una volta sgonfiata la camera d'aria svitiamo il dado del fermo a copertone vi dato il dado lasciatelo allentato e non toglietelo in modo tale che il fermo a copertone non non esca dalla sua sede la prima cosa che dovrà essere fatta sarà stallonare la gomma in questo modo una volta stallonata la gomma inizierà il processo di smontaggio con le leve procediamo con lo smontaggio useremo lo stesso attrezzo che abbiamo usato all'inizio per stallonare abbassando la spalla della gomma una volta abbassata inseriamo la leva vi ricordo che più leve usate più sarà facile lo smontaggio ok una volta inserite le prime leve fate attenzione a metterle vicine non troppo distanti perché poi il lavoro sarà molto più difficile procediamo con lo smontaggio delle leve iniziamo tirare la prima andando in sequenza una volta arrivato in questo in questo momento quella centrale sarà libera andremo inserirla poco più avanti di una delle due leve esterne andiamo ad inserire la leva poco più avanti e rifacciamo il procedimento di prima ora spingiamo all'interno la barbola della camera d'aria e cercheremo con molta pazienza di prendere la camera d'aria da dentro la gomma da dentro il cerchione dopo molta fatica è fuoriuscita la valvola insieme al resto della camera d'aria ora con un po di manualità faremo fuoriuscire tutta la camera d'aria dal copertone ok continuiamo con lo smontaggio dello pneumatico ora bisognerà girare il cerchione perché dobbiamo smontare la spalla restante dello pneumatico ok una volta ripresa in mano la nostra amica leva andremo a prendere la parte esterna del cerchio in modo tale da far uscire la spalla non la mia ma quella dello pneumatico una volta spinto all'ingiù il nostro pneumatico riuseremo lo stallonatore una volta stallonata anche la seconda parte della della spalla continuiamo con lo stallonatore a spingere all'ingiù aiutandoci anche con le mani una volta iniziata la prima parte con lo stallonatore continueremo a mano e spingendo all'ingiù vedremo che la gomma uscirà dal cerchio prima del montaggio della gomma fate bene attenzione al senso di rotazione di essa ci sarà una freccia che inseguirà la direzione della rotazione ok andiamo avanti con il rimontaggio della gomma ora sarà tutto più facile diciamo iniziando ad inserire la prima parte della gomma nel cerchio partiamo a mano e una volta arrivati a questo punto inserito il più possibile del pneumatico a mano ci aiuteremo con una leva per per il mantenimento della spalla e con altre due leve andremo avanti ad inserire il resto del pneumatico ricordatevi di inserire soltanto una delle due spalle se no chiuderete lo pneumatico senza inserire la camera d'aria fate bene attenzione durante il montaggio dello pneumatico di inserire le due spalle all'interno del fermo copertone se no non ci sarà la giusta aderenza delle spalle sul cerchio e siamo arrivati al momento del montaggio della noiosissima camera d'aria iniziamo come facciamo alziamo la spalla del pneumatico e la inseriamo all'interno ok una volta inserita la camera d'aria dentro lo pneumatico bisognerà inserire la valvola nel suo spazio sempre con le nostre carissime mani andremo a spingere ok una volta fatta fuoriuscire la valvola per essere più sicuri iniziate ad avvitargli il primo dadino ok siamo arrivati alla fine andiamo a completare il nostro lavoro basterà reinserire le leve abbassando la spalla aiutandosi con l'attrezzo una volta inserite le leve ricordatevi anche durante il montaggio di inserirle il più vicino possibile per facilitare l'inserimento della spalla va bene una volta inserito tutto lo pneumatico passiamo alla fase di gonfiaggio la pressione di gonfiaggio solitamente varia da 0.9 a 1.2 bar in base al al terreno ok una volta gonfiato la camera d'aria ricordatevi di tirare il meglio che potete il fermo copertone se no gira lo pneumatico e vi strappa la valvola della camera d'aria un'altra cosa fondamentale da controllare è la stallonatura controllate che lo pneumatico sia tutto uniforme intorno al cerchione in base a quello capite se è stallonato nel modo giusto o no ok ragazzi per oggi abbiamo finito ci siamo sporcati le mani abbiamo sudato un pochino ma ce l'abbiamo fatta smontare pneumatico e camera d'aria ricordatevi di seguirci sulla pagina facebook e di seguire i nostri video tutorial in più consultate il sito di cross shop per prodotti e attrezzature ricordatevi che la domenica mattina non c'è il gommista che vi cambia la gomma per cui fidatevi compratevi uno smontagomme e portatevelo sempre dietro nel furgone che vi fa comodo ciao ragazzi e ci vediamo al prossimo video di smooth concept